Vaiolo delle scimmie, primo caso sospetto nelle Marche, in ospedale una 26enne di Loreto, rientrata da un viaggio in Francia, da Torretti e DG Caporossi, no allarmismo. Camera ardente per l'addio a Simone Ferri, il 23enne, operaio morto in un'azienda di Monsampolo, a cedere un pannello del capannone, controlli dei carabinieri in 15 cantieri del maceratese, irregolarità e 30.000 euro di multe. DDL concorrenza, balneari disperati, la categoria lamenta ancora troppe incertezze, intanto in Adriatico prosegue lo sciopero della pesca, barche ferme un'altra settimana. Ascoli su sottila anche il Cagliere, un'altra pretendente per il tecnico bianconero, tentato soprattutto dall'Udinese. Samb stanca ma senza scusanti, daremo l'anima, promette mister Alfonsi, alla vigilia della finale play-off contro Stena. Più cordiale, ben ritrovati, nuova edizione del TGM, il nostro telegiornale delle Marche, in primo piano il primo caso sospetto di Vaiolo delle Scimmie, una donna di 26 anni, di Loreto, ma di origini africane. Vediamo. Reduce agli inizi di maggio da un viaggio in Francia, si è presentata in compagnia del figlioletto di 4 anni alla pronto soccorso dell'ospedale Torrette di Ancona, nella notte tra il 22 e il 23 maggio. La donna di 26 anni, cittadina italiana di origine africana, residente a Loreto, presentava sfoghi cutanei, cefalea, oltre a febbre e linfonodi ingrossati. Sintomi riconducibili anche al Mokeypox o Vaiolo delle Scimmie, che nelle ultime settimane sta suscitando nel mondo una certa apprezzione. Subito è scattato l'allarme. I sanitari degli ospedali riuniti hanno fotografato quelle pustole di dubbia natura e spedito le immagini allo Spalanzani di Roma, che sul caso non ha ancora sciolto la prognosi. La paziente nel frattempo è stata ricoverata in isolamento nel reparto malattie infettive diretto dal professore Andrea Giacometti, dove è sotto osservazione. È in buone condizioni. Nessuna conseguenza per il figlio della donna, che all'estero ha incontrato persone di varie nazionalità, tra cui degli spagnoli. Il bimbo, trasferito al pronto soccorso pediatrico del Salesi, è stato dimesso poiché è asintomatico ed è già rientrato a casa dalla nonna, dove resterà in isolamento in via precauzionale. Qualora la mamma di Loreto fosse stata infettata dal Vaiolo delle Scimmie, sarebbe questo il primo caso nelle Marche. Per sciogliere il nodo e stabilire se si tratta di monkeypox, bisogna attendere tutta una serie di esami di laboratorio. Solo martedì alla torrette arriverà il kit per analizzare il virus. Il Vaiolo delle Scimmie è endemico dell'Africa centrale e occidentale, particolarmente concentrato nella Repubblica Democratica del Congo. Si è diffuso in Europa, oltre a Stati Uniti e Australia. I casi sospetti superano quota 200, ma non si registra alcun decesso. Il virus si trasmette attraverso il contatto di mucose, aderenze genitali o orali con la saliva. A rischiare di più sono i giovani, perché fino al 1981 il vaccino antivaiolo era obbligatorio. L'Italia al momento è provvista di 5 milioni di dosi già pronte se dovesse servire, ha fatto sapere il sottosegretario della salute Andrea Costa. Ma l'Unione Europea contro il vaiolo delle Scimmie sta già lavorando ad un acquisto centralizzato di vaccini e antivirali. E rispetto al primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie, parla il direttore generale degli ospedali riuniti Torrette di Ancona, Michele Caporussi, che dice nessun allarmismo e nessuna paura. Sentiamo. Nessun eccessivo allarmismo per il caso sospetto di vaiolo delle scimmie che si sta valutando presso il reparto malattie infettive dell'ospedale regionale di Ancona. A ribadirlo anche il direttore generale degli ospedali riuniti. Come sempre in questi casi bisogna non avere paura di nulla, scacciare l'allarmismo, avere situazione per situazione la mappa di quello che sta accadendo. Noi come ospedali riuniti siamo pronti, abbiamo avuto un caso sospetto. La prossima settimana ci sarà la possibilità di fare una diagnosi. I cittadini possono stare tranquilli che tutto quello che si farà, che farà il sistema sanitario, come è stato fatto nel Covid, sarà all'insegna della sicurezza. E apriamo la pagina dedicata al Covid. Prosegue il trend di sensibile calo di ricoveri nelle marche. Meno 30 in 4 giorni, meno 7 in 24 ore e il totale scende a 81. 11 invece i pazienti dimensi. Sono 452 nuovi positivi in 24 ore con incidenza scesa da 278,19 a 263,90. Per quanto riguarda i tamponi ne sono stati analizzati 2.345 nell'ultima giornata, di cui 1.992 nel percorso diagnostico, 22,7% di positivi e 353 nel percorso guariti. Per quanto riguarda la suddivisione dei casi, sono 144 quelli rilevati in provincia di Ancora, 90 in quella di Pesaro Urbino, 83 nel maceratese, 59 nel Piceno e 53 nel Fermano, 22 infine i positivi provenienti da fuori regione. Una morta per Covid nelle ultime 24 ore si tratta di una donna di 91 anni, di cingoli in provincia di Macerata, con patologie pregresse. Si è aperta nel pomeriggio a Castel di Lama la Camera Ardente per dare l'ultimo saluto a Simone Ferri, l'operaio 23enne caduto dal tetto di un'azienda a Monsampolo del Tronto, azienda per cui lavorava. Si indaga ancora sulle cause del volo fatale. Vediamo. Avrebbe messo un piede su un pannello apparentemente solido che poi ha ceduto, facendolo precipitare per circa 8 metri e finire all'interno del capannone. Su questo aspetto si concentrano gli inquirenti che indagano sulla morte del giovane lavoratore Simone Ferri, il 23enne di Castel di Lama, dipendente di un'azienda di Monsampolo, che produce profilati in alluminio caduto giovedì proprio dal tetto dell'Api. I carabinieri e i tecnici dell'area Vasta 5 stanno cercando di ricostruire il quadro completo e individuare eventuali responsabilità. Perché Simone era sul tetto? Lo ha fatto durante l'orario di lavoro o in un momento di pausa? Queste le domande preliminari alle quali sta cercando di dare una risposta all'inchiesta della procura di Ascoli che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Tra le ipotesi quella che il giovane fosse salito per recuperare un cellulare. Non si sa se suo o di un collega. È evidente che se è stata una sua iniziativa ciò solleverebbe dalle responsabilità gli addetti alla sicurezza dell'azienda. Soggetti che invece verrebbero coinvolti qualora emergesse che l'incidente è avvenuto durante una fase di lavoro che Ferri stava svolgendo e per il quale era salito sulla tettoia del capannone. L'ennesima morte bianca, tra l'altro di un ragazzo così giovane, ha suscitato la reazione dei sindacati, in particolare delle segreterie provinciali di FIM, FIOM e Wilm di Ascoli, che sollecitano di fronte a questa inaudita tragedia sul lavoro. Una maggiore attenzione delle istituzioni locali e degli organi preposti al controllo e alla vigilanza. E soprattutto richiamano alle proprie responsabilità le imprese sul tema degli infortuni mortali sul lavoro, che nelle marche hanno già raggiunto in questi primi mesi dell'anno livelli inaccettabili. A crescere sono sia gli infortuni avvenuti nell'industria che nei servizi, sia nel pubblico. Nel settore metalmeccanico, che è uno dei più colpiti, si registra un incremento che segna un più 17,6%. Un'emergenza sempre più grave. Intanto, dopo la ricognizione cadaverica fissata in giornata, la salma del 23enne verrà restituita alla famiglia, che a quanto pare opterà per una cerimonia strettamente privata, senza celebrare i funerali in chiesa. Una notizia di cronaca, il comando provinciale dei carabinieri di Macerata con il nucleo ispettorato del lavoro e le compagnie di Civitanova Marche, Tolentino e Camerano hanno ispezionato 15 cantieri, sia in riferimento alle condizioni di sicurezza dei lavoratori che nella ricostruzione post-sisma. Le irregolarità rilevate hanno portato a oltre 30 mila euro di ammende a segnalare alle competenti autorità, 11 amministratori delle aziende edili finite nel mirino dei militari. Con il mese di giugno alle porte si apre anche il periodo del turismo. Le prenotazioni finora indicano che saranno soprattutto le famiglie a scendere a scegliere Pesaro per le vacanze. La guerra in Ucraina genera meno titubanza, ma gli albergatori restano preoccupati soprattutto per l'aumento dei costi. Vediamo. Chi verrà in vacanza quest'estate a Pesaro? Per ora l'associazione Albergatori rileva dall'andamento delle prenotazioni che il turismo che va per la maggiore è quello composto da famiglie o piccoli gruppi. Agosto resta il mese più gettonato. Al momento ci sono incognite sui gruppi della terza età che solitamente prediligono i periodi di inizio e fine estate. Albergatori che guardano con attenzione anche al conflitto ucraino. Se da una parte la guerra genera meno preoccupazione per chi deve prenotare una vacanza bisogna sempre fare i conti con l'incidenza che la crisi ucraina potrà avere nel prossimo trimestre sull'aumento dei costi. Qual è al momento l'andamento? Giugno, luglio ci sono già le prime prenotazioni? Allora siamo sempre molto sotto data quindi adesso iniziamo diciamo a giugno e ovviamente agosto è il mese che va per la maggiore. Riscontriamo che sono prevalentemente persone singole in famiglia, piccoli gruppi. È difficile al momento avere una programmazione invece sui gruppi, quelli diciamo storici che vengono a Pesaro a visitare nei mesi di giugno o settembre. Ma i riscontri sono buoni, adesso ovviamente sono tante le possibilità quindi dai bed and breakfast alle case, agli appartamenti turistici, da noi c'è una grande proposta di tutto. Però le richieste ci sono e speriamo di finalizzarle perché poi è quello l'obiettivo. Si sente un po' meno l'attitudanza sul conflitto ucraino che fino a qualche mese fa si sentiva di più anche nelle prenotazioni? Sì, attualmente si sta sentendo meno, ovviamente rimane sempre principale per quanto riguarda l'andamento dei costi e quindi dobbiamo sempre fare attenzione ai costi e all'aumento dei costi che vediamo essere ormai trimestralmente e avere delle variazioni. Quindi siamo preoccupati da questo punto di vista. E cambiamo argomento rispetto al DDL concorrenza che approde in aula lunedì all'accordo raggiunto dal governo sugli indennizi per le concessioni balneari che andranno all'asta nel 2024. Abbiamo ascoltato le reazioni dei concessionari a San Benedetto del Tronto. Vediamo. Lunedì il DDL concorrenza proda Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Industria del Senato che in qualche modo ha bypassato il nodo balneari. Dopo settimane di trattative interne alla maggioranza e solo in seguito al pesante richiamo del Premier Draghi è stata trovata un'intesa su un emendamento che elimina dal testo i riferimenti alle modalità di calcolo degli indennizi ai concessionari uscenti, rinviando la palla ai decreti delegati che sarà compito del governo varare. Ma questo non fa che creare altra incertezza nei concessionari di spiaggia. Io ancora non ci credo. Ancora non ci credo che ci possa essere un esproprio. Noi abbiamo fatto un contratto con lo Stato, ci ha dato questo pezzo di terra, l'abbiamo abbellito, l'abbiamo in pratica tirato su, ci abbiamo costruito la nostra impresa. Adesso se ci vogliono mandar via devono valutare quanto vale questa impresa. non c'è altro. Forme di protesta. Per me in pratica non ho idea di questo. Io penso che una forma di... noi dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Basta con i servizi che si vedono in televisione che sembra che fatturato meno canone sia uguale al guadagno. Non è così. Cioè non è così. Poi nessuno mette in discussione il canone. Noi mettiamo in discussione questa incertezza. Ecco, questo è quello che è grave. L'incertezza. Questa è la solita spada di Damocle che da decenni ormai incombe sulle nostre imprese. Proprio adesso, in questo momento in cui la stagione sta per avviarsi, si chiama ridosso delle prime giornate di giugno, dobbiamo avere questo incubo ancora della Bolkestein. è ormai una cosa veramente assurda. Io penso sempre che noi facciamo impresa e non abbiamo problemi anche nel momento in cui ci fosse un'asta a concorrere con la nostra professionalità e capacità di fare impresa e turismo in Italia nel concorrere le aste. Ma il problema rimane sempre questo. Io mi pongo sempre la stessa domanda, ma in un'asta rialzo, secondo voi, chi è che poi alla fine ci rimetterà se non l'utente finale nel prezzo che pagherà degli ombrelloni? Uno dei pochi punti fermi è che viene confermata la proroga delle concessioni a fine 2024 nel caso in cui emergano ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, come prescrive invece la recente sentenza del Consiglio di Stato. Ma alcuni balneari sono già pronti a proteste eclatanti. Nessuno si è impossessato della spiaggia, però abbiamo costruito qualcosa di bello, anche a livello proprio internazionale. Quindi noi siamo a questo punto disperati, quindi qualunque forma a costo di rimanere qui dentro proprio devono venire a prendersi le mie chiavi perché io non sono disposto ormai a questo punto a accedere a qualcun altro l'attività che deriva da tre generazioni di lavoro. Mi dispiace. I pescarecci delle marche di tutto l'Adriatico restano ancora in porto e lo stesso faranno anche le barche della piccola pesca. La decisione è stata presa in una follata assemblea oggi di Ancona per valutare se continuare o meno lo sciopero legato al caro gasolio, il cui prezzo è salito ancora a 1,20 euro al litro. La protesta dunque viene confermata, fa sapere l'Associazione Produttori Pesca di Ancona, con la prospettiva, si dice, di inasprirla la prossima settimana dopo un nuovo incontro già previsto per lunedì prossimo. Si chiede al Governo di velocizzare il più possibile gli interventi previsti per il settore ittico, gli annunciati 20 milioni di euro, ma che appaiono ancora lontani da arrivare nelle casse delle imprese di pesca. L'assessore all'agricoltura della Regione Mirko Carloni analizza il problema della peste suina con la necessità dell'abbattimento dei cinghiali. Vediamo. La peste suina non rappresenta un rischio per la salute dell'uomo o degli animali domestici, colpendo solo i suini. Ma è indispensabile mettere in atto tutte le misure che permettono di contenere il virus, perché mette a rischio il comparto economico suinicolo, particolarmente importante per l'intero Paese. È così in arrivo un piano di eradicazione del virus e della peste suina, anche attraverso l'abbattimento selettivo di cinghiali, da riportare ai loro abitate naturali, che non possono essere ovviamente i centri storici e i campi coltivati. Stiamo aspettando che il Ministero decida come convertire il decreto e se ci dà degli spazi ulteriori per fare questi abbattimenti. Noi tutte le Regioni abbiamo chiesto una risposta concreta e non, diciamo così, ideologica, perché abbiamo visto nel decreto peste suina africana è stato ammesso l'abbattimento in modo ecosostenibile. Il metodo ecosostenibile in questo caso veramente fa spaccare dalle risate, serve una risposta vera, concreta, che non sia soltanto un approccio ideologico al tema. Nel frattempo si sono accaniti sui costi di questo animale perché ovviamente essendoci un rischio di peste ogni abbattimento deve essere analizzato dal punto di vista genico-sanitario e quindi vuol dire più costi. Ed è un paradosso perché mentre si chiede a queste persone di aumentarne l'abbattimento gli si aumenta i costi per farlo. L'assessore Carloni illustra il grande lavoro dei cacciatori marchigiani e sottolinea l'esasperazione della gente per la gravità del problema. L'anno in corso le squadre di cinghiale hanno fatto un abbattimento senza precedenti sopra le 20.000 unità. Tuttavia questo non basta perché la presenza è ormai preponderante, è antropizzata, è vicino ai centri abitati, quindi c'è qualcosa di anomalo nel comportamento anche di questo animale per cui è necessario gestirlo. Molti questa cosa ancora non hanno capito quanto è grave. Chi vive probabilmente ai parioli e va con la scorta dentro un palazzo non si rende conto di cosa succede nei nostri appezzamenti agricoli o sotto la montagna dei nostri appennini dove le persone sono esasperate perché non riescono più a coltivare nulla che non venga distrutto. E siamo ad Acquaviva Picena dove il 12 giugno si voterà per il nuovo sindaco e anche per il nuovo consiglio comunale. La sfida come cinque anni fa sarà tra il sindaco uscente Rosetti e lo sfidante di Acquaviva Futura in Friccioli. Vediamo. Ad Acquaviva Picena per la carica di sindaco si rinnova il confronto tra Pierpaolo Rosetti, sindaco uscente, e Sante in Friccioli, esponente di Acquaviva Futura. Nel 2017 la sfida si concluse con la vittoria di Rosetti per appena 78 voti. Il primo cittadino in carica ribadisce che i punti fondamentali del suo programma sono il polo scolastico, il piano regolatore e un rilancio del turismo nel centro storico. La candidatura è dettata dall'esigenza di una continuità per portare avanti alcuni progetti importanti e completarli per un programma che ha concretezza perché parliamo di progetti già finanziati e che inserisce un'importante innovazione anche nella compagine della lista per porre le basi per il futuro amministrativo di Acquaviva. L'elemento principale su cui c'è anche il confronto con l'altra parte è sicuramente la scuola e la realizzazione del nuovo polo scolastico. Sono stati anni in cui ci siamo dedicati alla realizzazione del progetto, caratterizzati anche dai due anni di pandemia e ora è il momento di realizzarlo. Su questo ovviamente abbiamo visioni completamente diverse, noi vogliamo restituire la scuola il prima possibile, il progetto è pronto e quindi dobbiamo ora realizzarlo verso il centro La Castagna. Abbiamo fatto molti interventi di riqualificazione e manutenzione del centro storico, abbiamo cercato ovviamente di riqualificare, proporre nuove iniziative turistiche, riportare al vecchio splendore il mercatino, ovviamente poi ci sono stati due anni in cui la situazione si è bloccata. Nel programma inseriamo nuove iniziative a fianco a quelle tradizionali che continueranno ad essere sostenute da proposte come la residenza artistica che già sono sviluppate e inserite in altri territori, in altri comuni come il nostro borgo. Il centro storico deve diventare un luogo per ospitare turisti, quindi questa è la destinazione che deve avere ed è in questo contesto che ci proponiamo anche di rivedere l'intero piano regolatore per dare una nuova visione dell'intero territorio. C'è anche l'idea e la proposta di spostare la sede comunale e qui prendere vita il vecchio luogo dove era il vecchio edificio scolastico, in modo tale che quel palazzo che è di pregio storico e artistico possa essere insieme agli altri monumenti messo in rete e rendere veramente quella parte del borgo, soprattutto la parte dove la fortezza medievale è un centro di attrazione turistica e culturale importante. Sull'opposizione io posso dire che in questi anni c'è stata quasi l'applicazione di una formula matematica, tutto ciò che l'amministrazione Rosetti faceva o diceva era giusto il contrario, quindi c'è stata una contrapposizione fine a se stessa senza una proposta concreta. Abbiamo anche chiesto un confronto, lo chiediamo, ma questo credo che sia nell'interesse di tutti, soprattutto dei cittadini che possono vedere contemporaneamente le proposte, soprattutto sul progetto della scuola e capire dov'è veramente la verità. Non c'è soltanto la scuola, ci sono adesso due progetti in via Boreale che sono in fase di gara per quel discorso che dicevo sul piano regolatore che è concreto, c'è in atto siamo pronti a una convenzione con l'Università di Camerino, i fondi sono stanziati in bilancio ed è qualcosa di importante d'Acquaviva dopo oltre 20 anni di un piano regolatore che ci permetterà ovviamente di rivedere le destinazioni di zone come la zona industriale, la Conca degli Olivi, ma lo stesso paese ormai è ampiamente urbanizzato. E cambiamo argomento il 14 luglio alla Santa Casa di Loreto, concerto del Maestro Muti. Vediamo. Straordinario appuntamento fissato per il prossimo 14 luglio al Santuario Internazionale della Santa Casa di Loreto con il Maestro Riccardo Muti in concerto. L'evento, che si svolgerà in serata, rientra nell'ambito dell'iniziativa Le Vie dell'amicizia, progetto di Ravenna Festival con il patrocinio della Delegazione Pontificia e che farà tappa dopo il Santuario di Lourde. Un'occasione di altissimo livello che nasce dall'amicizia dell'Arcivescovo Delegato Pontificio Fabio Dalcin con lo staff del Maestro Riccardo Muti, fondata sui valori condivisi di pace e solidarietà propri del messaggio della Santa Casa. Muti, insieme alla moglie del suo staff, ha fatto visita al Santuario Lauretano. Un evento molto importante che dà lustro alla nostra regione in un palcoscenico internazionale, quindi c'è grande soddisfazione e anche grande attesa. È un crucevia importante di pace, è un messaggio forte che parte proprio da Loreto e spero che sia anche una bella opportunità per mettere in mostra tutta la nostra bellezza e la nostra grande capacità di essere ospitali. Riccardo Muti guiderà la sua orchestra giovanile Luigi Cherubini, il coro Cremona Antiqua e il coro del Teatro dell'Opera Nazionale d'Ucraina Taras Shevchenko. La musica spazierà dal Magnificat di Vivaldi alle voci di cento bambini che si levano nell'Ave Verum Corpus di Mozart a molto altro ancora. Sarà un ecumenico intreccio di voci, cultura e spiritualità che trova unità nella più spontanea delle invocazioni, quella alla madre immagine di tutte le madri. Oltre ad essere un momento di arte e musica, l'evento rappresenta un tempo di riflessione e invocazione alla madre di Dio affinché interceda per il cessato il fuoco non solo in Ucraina ma in tutti i luoghi di conflitto del mondo. Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Serie B perché c'è anche il Cagliari su Andrea Sottile, tecnico dell'Ascoli in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, soprattutto dal Friuli, sembrano fare sul serio. Gli aggiornamenti nel servizio. Aumentano le pretendenti. Dopo l'Udinese, su Andrea Sottile è piombato pure il Cagliari, fresco di retrocessione in Serie B. Da punto fermo dell'Ascoli, in vista del 26esimo campionato cadetto dei Bianconeri, il tecnico piemontese è diventato un nodo da sciogliere. E di fronte, soprattutto, alle avance friulane, Sottile, che mai ha allenato in Serie A, starebbe tentennando. L'Ascoli per il momento è rimasto a guardare. A breve, le parti dovranno incontrarsi per dirsi addio oppure prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. I segnali delle ultime ore, però, sono meno all'insegna dell'ottimismo rispetto ai primi. Di sicuro, da Udine, riferiscono che i contatti col club di proprietà di Giampaolo Pozzo sono in corso da giovedì e sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di un accordo annuale. Sottile, da giocatore 115 presenze e 8 gol con i friulani bianconeri dal 1999 al 2003, non sarebbe la prima scelta per il dopo Gabriele Cioffi. Ci sarebbero l'ex Picchio e Venezia Paolo Zanetti, l'ex Cagliari Leonardo Semplici e un allenatore spagnolo. Tutti profili sotto contratto, insomma, con Sottile che però sarebbe quello più semplice da liberare. E qui si torna al contratto per un'altra stagione con l'Ascoli, che probabilmente non farebbe troppe storie al tecnico piemontese se quello dimostrasse di voler cambiare aria a tutti i costi, ma che invece potrebbe chiedere una buona uscita all'Udinese o al Cagliari. Nei prossimi giorni bisognerà chiarire il futuro di Andrea Sottile, in un senso o nell'altro. Siamo alla calcio di Serie D, con la samba, la vigilia della partita della finale play-off del Girone F contro il Trastevere a Roma. Nota del Comune, che critica la decisione di riservare appena 90 biglietti ai tifosi rosso-blu, annuncia anche l'istituzione per domani di un maxischermo al Campo Mandela, in zona agraria. Intanto parla il mister rosso-blu Sant'Alfonsi, che dice che siamo stanchi, ma daremo l'anima. Vediamo. È stato un percorso bellissimo, emozionante, affascinante, ricco di difficoltà, però siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine, è una finale, ci siamo votuti questi tre giorni e adesso siamo concentrati, abbiamo voglia di fare bene anche domani. Partito terz'ultimo, Sant'Alfonsi non si aspettava di arrivare quarto. Rimonta da metà dicembre in avanti e adesso siamo alla finale play-off del Girone F di Serie D. La samba ha eliminato il Tolentino, 1-0 in trasferta e il Trastevere, secondo in classifica, ha strapazzato 4-0 la vastese in casa. E lì si resta domani alle 16, al Trastevere Stadium, 800 posti, appena 90 per i tifosi rosso-blu, ma per Roma ne partiranno molti di più. Alfonsi si preoccupa del Trastevere, il secondo migliore attacco del Girone, la quinta difesa meno perforata. E occhio agli ex rosso-blu, Crescenzo, 11 gol, Fioretti, 8. È una finale, è una gara difficile, loro sono un'ottima squadra, sono la seconda forza del campionato, hanno dato filo da torcere alle canatese, quindi sicuramente in casa hanno fatto sempre il risultato, è un campo piccolo, è sintetico. In casa il Trastevere è rimasto imbattuto per tutto il Girone di andata, mentre nel ritorno ha perso tre volte con Pineto, Recanatese e Vastese. La Samb in trasferta non vinceva da febbraio, poi è con le due di fila, Pineto nell'ultimo atto della stagione regolare e a Tolentino. Noi non abbiamo scusanti, domani non c'è nulla che deve far pensare che non metteremo tutto, siamo stanchi fisicamente, mentalmente, ma domani daremo tutto, daremo l'anima, daremo tutto, per portare a casa anche questa vittoria. La Samb partita per la Capitale dopo l'allenamento di rifinitura stela di Monsampolo del Tronto senza Lulli, Frulle e Alboni, squalificato Mr. Visi. Non al meglio qualche pidina, incluso Pica, ma si va verso la conferma dell'undici schierato a Tolentino. Tra i convocati, preferito il giovane Morra, Zgrablitz. E a Roma debutterà sulla maglia rosso-blu il nuovo sponsor Quojobis, azienda del settore risorse umane con sede principale nella Capitale e 24 filiali in tutta Italia. E mentre il Trastevere ha predisposto la diretta Facebook della partita, ma al costo di 5,49 euro, in riviera il Comune con una nota stampa criticato, testuale, l'assurda disponibilità di 90 biglietti. Organizzato un maxi schermo al campo Mandela dell'Agraria, con apertura dei cancelli alle 15.30. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Mi fermo qui, è tutto anche per questa edizione del TGM. Grazie per averci scelto. Vi auguro buon proseguimento su Vera TV.